Sicuramente per Clivio è una giornata speciale, magnifica, ma soprattutto importante. Ricordiamo la signora Nella Marazzi Molinari, nostra concittadina, che ha fatto quello che ormai ne parlano un po' tutti i libri, una cosa veramente che nessuno sapeva, nemmeno i figli, fino a poco tempo, pochi anni fa. Tra l'altro i figli abitano tuttora a Clivio, i tre figli con le loro famiglie, e poi non dimentichiamoci del Marisciallo Cortile, che con il nostro grande parroco di Clivio, Don Gilberto Pozzi, operavano nell'organizzazione Oscar e hanno aiutato veramente tante persone. Abbiamo oggi presenza della sua eccellenza l'ambasciatore di Israele, il dottore Alon Bar, che rende questa cerimonia ancora più importante, per non dimenticare che è la cosa più importante, secondo me. Sono onorato dell'invito, della medaglia che riceverò, e per il gesto di mio zio, fatto a fine guerra, fino a seconda guerra mondiale, in cui ci ha rimesso poi la vita, morendo a Mauthausen.